bentornati su impegno strategia oggi siamo in un 4 contro 4 quindi abbiamo assunto pure il quarto giocatore per questo video attenzione utilizzeremo la gallia e utilizzeremo solo arcieri gallici attenzione però sono stati potenziati perchè da 6 attacco adesso hanno 12 di attacco quindi attenzione sono più forti e boh giochiamo contro la britannia dato che l'ultima volta ci davano così tanti problemi con sti cazzo di capi normanni quindi io adesso ne abbiamo 4, 8, 12, 16 capi normanni dobbiamo combattere boh direi di iniziare subito andiamo no porca madonna ho sbagliato tazzo ok ci siamo siamo in game io sono la gallia anch'io sono la gallia ecco l'ho sbagliato tutto il guerriere non mi ricordo un cazzo aspetta in gallia cosa bisognava fare ok we go ah ma possiamo fare solo arcieri nessuna unità speciale niente che sia chiaro ah no gli eroi si cazzo porca madonna se no attenzione siamo usciti vediamo quanti ne perdiamo adesso oh zio fa ma sono forti sti guerrieri gallici non me lo aspettavo zio fa dai che gli ammazziamo l'eroe iu ugo è morto ci bagneremo il loro mi muore l'eroe io quitto l'ho detto lo fa guarda che ho mento la vita al massimo sai che vuoi mentare i 100 per ogni cosa che gli dai forse i sercieri sono diventati un po' troppo forti eh comunque il mio giudizio il mio giudizio finale è che secondo me li hanno fatti un po' troppo forti cioè non vorrei trarre conclusioni affrettate però secondo me li hanno potenziati un po' troppo cioè una volta erano scarsissimi eh oddio eh sembrava che lanciavano le piume ma che cazzo è che ha fatto i druidi ma sei un coglione vabbè tanto non sono vai lì subito a morire non ho fatto niente porca madonna tu bari ti dati dentro adesso ho sbagliato ma che alleato di merda sei mica l'abbiamo detto non fate i druidi è un sbagliato è abitudine è abitudine sto cazzo era invisibile non si vedeva no tanto non ho fatto niente ce ne ho mai usati cioè usati in combattimento oh ragazzi stanno morendo tutti però no i miei ma quante unità c'hanno non le avevano tutte queste ragazzi io le sto perdendo tutte ma da dove sono spuntati sti cazzo di cosi i druidi sono andati a morire quindi non mi rompete Ale io mi spiace ma devo ritirarmi non c'ho più unità io ho unità raga ma perché sto attacco è andato in fallimento scusa perché fanno cagare i garcieri perché muoiono subito sono i gialli ma io pensavo che erano più forti i gialli si però aspetta eh però quanto ne ho expato no questo ne ho expato un cazzo è arrivato solo al 20 questo ma vaffanculo non ha fatto un cazzo di exp hai finito con sti cazzo di druidi mi vuoi far morire che stai volando mi sto andando a morire sono pure invisibili coglione guarda 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 bam mica ma un colpo one shot quello lì guarda guarda nel capo normanno one shot one kill bam ma ne va con questa qualcuno lì sarebbe anche ora ragazzi Stefano mi sa che è morto ragazzi Stefano no 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 sta morendo no non ce lo faccio del ricordo ne abbiamo perso uno mi sa ne abbiamo perso uno ne abbiamo perso io sono senza ieri porca madonna ne abbiamo perso uno zio bastardo ma perché scusa ma questa non è diplomazia questo è un mutimalamento dai ragazzi io spero che i capi normanni distruggono il tuo carro no ma guarda guarda l'eroe come guarda ma che cazzo è l'immigrazione scusa ma neanche nell'ottocento hanno fatto ste immigrazioni guarda gli eroi guarda gli eroi come muore poi dai ne abbiamo perso pure un altro dai Samu allora ragazzi io ritiro quello che ho detto sti cazzo di arcieri sono scarsi ancora scarsi ma dai ma Samu non ha contribuito un cazzo scusa Samu mi stai spazzando sta laggando tutto Samu diventano tesi poi ma che quanta roba mi chiede Samu mi fai perdere ma perché Samu ma stanno veramente conquistando contro i napi normanni lui non fa niente guarda one shot one shot one shot bam 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 è presente quel gioco delle talpe acchiappa la talpa lì come cazzo si chiama quello lì che c'erano lì nei centri ma come mai io li perdo così tante scusa non ho capito io dai i capi normanni sono buggati mi tolgono mille di vita ma dai l'eroe mi ha morto porco dio si capi normanni di merda si muovono troppo non si può no 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 ecco il tuo eroe mi è morto l'eroe più grande scusa io giro il 44 come ne dai ma si capi normanni no ma vuoi andare a casa ti ho detto di andare a casa ma dai gli stai facendo rincoglionire si capi normanni poverini dai che tra un po' uno muore si ma fammi guardare pure il mio forno che sto subendo attacchi io oh questo minchia nascemo dentro stiamo dentro il mio ero nascemo dentro si è morto bravo così ma ho fatto un pene mi sa che tu guarda che ci saliva un po' il capo no 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 bastardo mai via il problema è che non puoi curarlo si ma non sbaraglio da sola contro tutti dammi a morire attenzione attenzione l'hanno fatto di curvo è morto no 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 iniziamo a spammare eroi mettiamo in coda 10.000 eroi vai vicino a quelli che si potenti ho fatto 100.000 eroi vai vicino a quelli che si potenti abbi pazienza un attimo minchia già al 9 quello lì appena esce si expa e ritornano indietro scusate scusatemi eh no non funziona non funziona stavo spacciati volevo potenzionare rapide no 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 non voglio perdere vi prego non ho 20 10 zio porca madonna sei stato eliminato facciamo cagare allora all'inizio pensavo no ma stierceri gallici sono veramente forti volete il mio giudizio finale da 6 a 12 non è cambiato letteralmente un cazzo e boh ci vediamo al prossimo video che vediamo al prossimo video Grazie.